Il cinema che ha scelto me è come se fosse una malattia, non sono più riuscita a staccarmi da questa passione. L'interpreto la mamma di questa ragazzina e c'è un rapporto molto conflittuale, nel senso che c'è una relazione che non è serena. Mi sento la mancanza della mamma, c'è che la mamma non le è vicina, è coraggiosa. È un puzzle praticamente, sono tanti piccoli pezzi che poi vengono messi insieme. Laura, la regista, ha bisogno proprio di questa maestra così dura e forte nei confronti di questo ragazzo. Ho portato il rospo per il corpo, questo è il mio ruolo, lo assisto, lo curo, gli danno a mangiare. Ce l'ho pure io a casa, come animali da me, sono animali che mi porta mio figlio. Mi concentro molto e parto molto dal visivo. In Biondina ci sono dei dialoghi, non sono moltissimi. L'obiettivo è quello comunque di fare un film, con tutte le caratteristiche di un film. È molto bella, aggiungiamo la nostra. Io guarda, credo che il cortometraggio è un'esperienza che è fantastica sia per gli attori che per appunto un regista, perché ti dà la possibilità di sperimentare delle cose diverse. Anche per gli attori si è abbastanza stancante, mi aspettavo fosse diverso il lavoro. Con Laura io ho visto un suo lavoro, un suo cortometraggio che è Passing Time e mi è piaciuta molto la sensibilità, il linguaggio che usa. Abbiamo capito in che direzione insieme doveva andare questa madre. Due giorni prima di girare abbiamo fatto le prove e quindi mi sono trovata meglio. Mi ha spiegato il personaggio di Anna, con tutti gli stati d'animo, oltre. Laura è andata benissimo, Laura è speciale, poco ti fa arrivare tutto quanto. Poi ogni minimo problema viene sempre risolto, c'è sempre una soluzione. Questo è bene, insomma questo è il cinema probabilmente. Questo set è stato meraviglioso, le attrici sono state brave, poi si è creata una coppia tra loro due interessante. Bellissimo. Mi ha aiutato, mi ha spiegato tutti i movimenti che devo fare. La Ponce Leste è bene, è bene. È una ragazzina stupenda perché ha una serietà incredibile, assorbe tutto, per cui basta. A volte non c'è neanche bisogno di dirle delle cose. Posso candidarmi per il prossimo Charlie Center? L'energia della truppa era molto positiva, ci siamo divertiti molto. Bella, è molto bella. Secondo me abbiamo girato un ottimo materiale, non vedo l'ora di montarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.